Allora, tre palloni sono, facciamo serio, in altre parti lì, allora guarda, al mio video, appena si giri, li devi cacciare, poi appena è, vieni da me, li caccia, appena si li alcia, ok? Ok? Dai, via! Buono! Dai, via! Fai, bien, chute, veni, chute, dai, veni, veni! Chudi, chudi, dai! Dai, ultima! Derecho, derecho, Dery! Derecho! Derecho, Dery! Derecho, Dery! Vai! Esola! Derecho! Derecho, Dery! Derecho, Dery! Derecho, Dery! Derecho, Dery! Derecho, Dery!